Dottor Sneidero, una prima valutazione, oggi siamo in chiusura della manifestazione di questa settimana. Molto positiva, affluenza più di quello che mi aspettavo, tanti stranieri e stranieri che cercano la qualità che possiamo dare solo noi italiani. Ci sono dei paesi in particolare che sono dimostrati delle sorprese quest'anno? Per noi la Cina, l'India sono state delle belle sorprese e per il resto ci hanno continuato a venire a visitare gli stranieri degli stati dove siamo già presenti. Cosa presentate di nuovo quest'anno? Oltre alla nuova finitura della noce grigia che è stata fatta da noi internamente abbiamo riportato nuovi imbottiti ma diciamo che abbiamo di nuovo riproposto una forma di living che ha ripreso la tradizione della Smania.